Una vittoria importante quest'oggi, 2-0 e anche convincente. Certo, sì, noi comunque li conoscevamo già, gli avversari, perché abbiamo avuto modo di giocarla e è stata rinviata fortunatamente grazie al tempo. È un'ottima prestazione a parte di tutta la squadra, perché comunque abbiamo avuto poco tempo per prepararla, abbiamo avuto solo un giorno a disposizione e quindi di conseguenza ci si aspettava più che altro una prova di carattere da parte della squadra, perché era importante far vedere che comunque, nonostante il periodo un po' difficile, ci siamo e diamo tutto per la maglia e che siamo attaccati e vogliamo anche noi portare a casa il risultato che molte e molte volte non riusciamo a farlo. Vi ha spianato un po' la strada il gol al terzo minuto. Sì, quello sì, siamo partiti bene, siamo partiti forti, come avevamo detto, di fare. E comunque l'atteggiamento di tutta la squadra era propositivo, quello giusto, quindi siamo stati convincenti, il rigore è arrivato perché appunto eravamo lì, eravamo sul pezzo e quindi di conseguenza siamo passati in vantaggio, meritatamente, siamo riusciti a raddoppiare subito e poi di conseguenza abbiamo gestito la partita, anche se dobbiamo migliorare in molti aspetti ancora. Sei contento della tua prestazione oggi? Personalmente no, no, ho sbagliato tanti palloni, posso fare molto di più. Il mister sta continuando a darmi fiducia, è una cosa che mi fa molto piacere perché io comunque ce la sto mettendo tutta. Ogni partita, chiaro che è difficile, è difficile mantenere il rendimento costante sempre al 100%, però in settimana avrò un modo di migliorare, di lavorare ancora meglio per la partita di domenica che è cruciale. Domenica è fondamentale. Sì, domenica è fondamentale, ci giochiamo secondo me gran parte del campionato, domenica dobbiamo arrivare con lo spirito giusto, dobbiamo lavorare bene in settimana e poi aspettano di fare la partita che vogliamo.